e abbiamo l'ultimo talk della serata che è quello di Matteo Il Conte Guerra e parliamo di stampa 3D, quindi sostanzialmente del firmware che si usa per le stampanti adesso Matteo vi spiegherà in maniera un po' più dettagliata di che cosa si parla e il talk è un talk a livello base, quindi abbiamo chiamato questo talk ABC perché comunque può essere anche utile a chi per primo si affaccia alla stampa 3D per la prima volta Bene, allora a te la parola e poi ci vediamo dopo A dopo? Allora, il monitor si vede, giusto? Quindi lancio un attimo la presentazione Eccoci qua, allora, va bene, la prima slide come dice ABC Marlin Firmware per stampanti 3D, ovvero come non mandare a fuoco la propria casa Perché questo sottotitolo? Perché molti principianti quando comprano la prima stampante 3D Diceva anche una stampante economica, quindi stiamo parlando di stampanti tipo una Ender 3 una Anetta 8 e tutta questa famiglia molto spesso arrivano con dei firmware che potremmo definire basilari che non includono delle feature importanti ma andiamo un attimo con ordine altrimenti poi vi spoilerò tutto il contenuto Allora, piccolo cenno storico Marlin Firmware è marlinfw.org per chi vuole andare sul sito nasce nel 2011 nasce come firmware sviluppato per la community open source per RepRap un progetto che magari ai più non dice nulla ma è stato il primo progetto che si è dato come obiettivo quello di riuscire a fare una stampante da un'altra stampante modelli come la Darwin o la Mendel sempre per gli appassionati sono nomi che potremmo definire evocativi sono stati i primi passi ovviamente serviva un firmware che fosse in grado di far conciliare queste sperimentazioni con l'hardware che c'era all'epoca che potremmo definirlo derivato dagli arduino quindi Atmel, stiamo parlando 8 bit non stiamo parlando di grandi potenze di conto stiamo parlando anche di parti di controllo motori molto basilari rispetto a quelle che abbiamo adesso e è nato con semplicità attualmente sono passati 10 anni circa 10 anni siamo arrivati a realizzare addirittura la 2.091 il vantaggio è che siccome la tecnologia è andata avanti abbiamo anche il supporto ai chip a 32 bit quindi quello che all'epoca era impensabile ovvero avere un processore che si trova degli smartphone per dare un'idea di potenza e soprattutto il vero vantaggio della release 2 è un enorme focus sulla sicurezza ci sono molti più controlli a livello di stampante cosa deve fare, cosa non deve fare quando tra virgolette fermare tutto in caso che i parametri non tornino nel dovuto come stavo iniziando a dire a seguito dell'avvento di numerosi produttori lì c'è stata una rifinitura delle stampanti soprattutto nella fascia economica perché siamo passati ad avere stampanti a prezzi che un tempo erano inimmaginabili ovvero di 100-150 euro cioè se uno può banalmente aprire numerosi store online e le trova a questi prezzi quando all'epoca addirittura le stampanti commerciali costavano sui 30.000 sono nel 90% dei casi dotate di cinematica i 3 cosa significa se uno apre lo store la vede, è una cinematica di tipo cartesiano quindi stiamo parlando di almeno un motore per ogni asse sulla X, sulla Y, sulla Z più almeno uno dedicato all'estrusore che serve a spingere il filamento sul piatto e tutte queste stampanti hanno una cosa che le accomuna che è Marlin o meglio la sua assenza o rimaneggiamento perché i produttori per tagliare l'angolo e risparmiare nello sviluppo scusate vedo un attimo un problema tecnico meglio? ottimo i produttori per risparmiare nello sviluppo hanno tagliato molte funzioni oppure si sono basati sulla versione 1 se non addirittura su una release candidate sto parlando del firmware Skynet che è della sovracitata Aneta 8 e siccome siamo potremmo dire dei maker o comunque degli appassionati non è una cosa che ci piace avere nessuno vuole avere un qualcosa di pericoloso in casa anche perché queste sono due foto delle due stampanti che ho citato prima alla mia sinistra c'è l'Aneta 8 alla destra l'Ender 3 questa è un'immagine di quello che succede quando il firmware non fa il suo dovere questa è una stampante che è andata a fuoco in quanto c'è stato un si è spezzato il termistore che controlla l'estrusore quindi a livello di firmware è arrivato il messaggio che all'estrusore ci sono 0 gradi e la stampante ha pensato bene di continuare a dare corrente alla resistenza la temperatura è salita a 300 400, 500, 600 gradi che sono temperature assolutamente fuori luogo i componenti plastici hanno iniziato a sciogliersi hanno preso fuoco e tutto il resto del telaio ha fatto la fine che si vede in foto un firmware serio come dico prima Marlin quando si accorge che dà corrente ma non sale la temperatura taglia ed ha errore e perché passare? passare è facile per fortuna come ho detto prima i firmware si basano su Marlin passare a Marlin è molto semplice la maggior parte delle stampanti è anche supportate ufficialmente dalla community cosa significa? che non bisogna impazzire a farsi il file di configurazione uno va sul repository si cerca il nome della propria stampante trova i file già configurati gli dà impasto al programma che dopo vi mostrerò la WS Code e platform io per compilare e magicamente va tutto al primo colpo è personalizzabile o ottimizzabile? cosa significa questo? personalizzabile significa che se io posso effettuare delle modifiche alla mia stampante e quando la modifico posso modificare il firmware quindi Mari voglio aggiungere un sensore di livellamento che sulla mia stampante non c'era lo aggiungo vado sul firmware mi cerco le voci che mi interessano le abilito e ho questa funzione ed è anche ottimizzabile cosa significa questa frase? sia che ogni stampante per quanto sia dello stesso modello ogni esemplare è sempre leggermente diverso Mari bisogna sempre dare una regolatina agli stepper motore oppure più semplicemente ognuno di noi vive in una casa che potremmo definire diversa quindi Mari la casa mia può essere più umida della casa di un altro stampatore si può agire da Marlin e regolare questi parametri che ovviamente significa avere delle stampe migliori come ho detto prima viene aggiornato a tutte le sicurezza necessarie ed è anche estremamente utile perché come ho detto prima si presta modifiche rispetto al prodotto originale si possono fare modifiche molto estese non si parla solo di aggiungere magari un sensore in più un sensore in meno o un cambio di motore si può rivoluzionare una stampante e aggiornare e regolarsi il firmware di conseguenza e come preferenza cosa serve per passare a Marlin un PC serve US Code che è un programma che gestisce la compilazione e anche la scrittura viene usato per fare codice sorgente ma è molto semplice da vedere anche per un novizio Platform.io che è un plugin un'estensione pensata per interagire con borde elettroniche e noi avremo da interagire con il cervello con la borde della nostra stampante il sorgente di Marlin che si scarica sempre da Marlin firmware ci sono i vari link pronti sia per i risi stabili sia meno stabili se qualcuno si sente in vena esplorativa cavi USB quanto basta ci sono due varianti che magari uno può avere una borde leggermente diversa e può avere necessità di una micro SD con lettore perché magari il suo film si aggiorna tramite micro SD oppure tramite un arduino alcune board un po' più scomode potremmo definirle perché invece di avere un collegamento comodo in USB e un pulsante premio sul computer bisogna un attimo giocare con l'arduino ecco l'argomento dell'arduino lo prenderò poco e nulla in considerazione stasera perché è molto specifico della board come direbbe Giovanni Mocciaccia carte igieniche con la vinilica ma direi che per oggi non servono introduzione rapida a VS Code Visual Studio Code è un editor di codice sorgente molto duttile molto versatile molto comodo per modificare i parametri in quanto riesce a vedere cosa contiene il firmware quindi in base alle nostre modifiche ci evidenzia quali sono i parametri che sono stati andati a modificare perché alcune modifiche sono tra violetta cascata abilitando un parametro se abilitano altri sottoparametri VS Code ce lo evidenzia cambiando i colori e ci aiuta e include anche una console che quindi avremo anche la compilazione guidata quindi in caso di errori non saremo a brancolare nel buio ma ci sarà un bellissimo errore un bellissimo avvertimento che ci dà vai a controllare quel parametro che forse non va e si possono installare il plugin in particolare il platform.io che è molto immediato il platform.io come detto prima è il plugin permette il dialogo cosa significa permette il dialogo che non solo può essere usato per caricare e scaricare il firmware può essere anche usato per controllare la bordo si può anche interagire con la bordo e vedere eventuali comportamenti certo questa è una funzionalità un attimo più avanzata però fa capire quanto lo strumento può essere efficace nella gestione di tutto ne approfitto un attimo per uscire dalla presentazione e mi vado un attimo a rivolgere cerco di fare dei passi purtroppo non ho una stampante 3D qui con me con cui far vedere a uno di telecamera cosa bisogna fare faccio vedere il programma così è uno può avere un'idea allora questo è WS Code all'avvio si presenta in grosso modo così perdonatemi non ce l'ho scusatemi splittare allora facciamo così purtroppo devo guardare anch'io la proiettata allora come possiamo notare questo è l'ingresso del programma i più esperti avranno già notato che io ho già installato platform.io si può notare da quell'icona di alieno che si trova sulla sinistra è l'ultima icona della fascia alta per installarlo si può molto banalmente andare col bellissimo mouse vediamo se mi segue mamma mia quanto è complicato farlo da così andare nella sezione ah no aspetta così così mi devo recuperare ah fantastico si è incartato scusatemi recupero il mouse eccomi qua è la giornata degli hardware manufacturing direi assolutamente epico allora ah già perché sono in ritardo è difficilissimo va bene diciamo salto un attimo questa parte perché altrimenti impazzisco allora anzi faccio un attimo una regolazione unifico e monitor eccomi qua ora dovrebbe vedersi meglio un po' peggio ma meglio allora beh posso farvi vedere come si installa si va nella sezione eccoci qua nella sezione view sezione extensions si apre una ricerca qua si può cercare platformio ide qui in questo caso già installato ci sarebbe un bellissimo tasto con scritto install uno lo installa in base alla potenza proprio al computer ci può mettere dai 30 secondi ai 5 minuti e ha fatto una volta che abbiamo pronto ci apparirà la nostra bellissima icona di alieno uno la clicca e appare il tasto per aprire il aprire la cartella dove sta il firmware in che senso la cartella il nostro bel firmware si può diciamo si scarica ed è una cartella in questo caso Marlin 2.0 e si scaricano anche le configurazioni sono altre cartelle in preparazione basta aprire si va nella nella sezione Marlin e qui uno vede tutti i file questo è il file di configurazione e il file di configurazione avanzata se uno vuole prendere un file già pronto per la propria stampante basta andare come dicevo prima nelle configurazioni config examples uno come può notare ci sono tanti marchi di stampanti io in questo caso a casa possiedo una Erie One una Thinker SE quindi vado nella mia cartella seleziono tutti i file li copio faccio un magico ctrl c torno un attimo indietro mi apro Marlin 2 Marlin li rincollo mi propone di sostituire i file li sostituisco tutti e ci siamo torno su platform io faccio open qua faccio open project mi imparirà un percorso qua da seguire per raggiungere i miei file quindi in questo caso so che sono in Matteo sono in scaricati mi basso nella console altrimenti mi impazzisco un'altra volta sono in Marlin 2 in questo caso devo selezionargli la cartella dove si chiama il file platform io .ini quindi questa è la cartella che mi interessa lico open adesso vedremo che aprirà il in questo caso se vi tiene questa domanda gli dite yes trustyautos e avremo a disposizione i nostri file vado nella cartella Marlin perdonatemi e troverò il file di configurazione questa è la configurazione della nostra stampante che una persona possiamo definire molto più brava di noi mettiamo conto che siamo dei principianti ci ha già preparato e sappiamo già che funziona non ci basta altro che in questo caso eventualmente scorrere i parametri vedere se ci soddisfano per esempio magari uno vuole molto banalmente cambiare il nome della propria macchina c'è il modo per farlo magari uno ha cambiato la scheda madre quindi può andare a definirsela o una persona molto giocherellona c'è un piccolo easter egg molto curioso che permette di debilitare i giochi non si sa mai uno sta davanti alla stampante e vuole perdere il tempo non c'è niente di meglio che giocare a Bricks con lo schermettino che c'è una volta che uno è sicuro del proprio firmware non gli basta fare altro che premere l'iconcina dell'alieno selezionare il proprio environment di build si trova scritto nel file di configurazione comunque uno può seguirlo e sapere cosa fare io so già che la mia piattaforma è la Rambo nome evocativo uno da build si aprirà la console adesso ve la apro sotto probabilmente mi cagnerà perché c'è stato un piccolo fail in fase di di preparazione in questo caso ci viene pure a dire il il perché non funziona ci viene a dire che il BLTouch ha bisogno di un z-min end-stop inverting in questo caso la mia stampante non richiede end-stop quindi vado a correggere il file in diretta configuration age so che questo file è stato pensato per due stampanti contemporaneamente una con e una senza end-stop vado a commentare questa riga torno su Marlin vado a dare un'altra build e ora sperando di si adesso scusatemi deve un attimo riscaricarsi due dipendenze lo farà anche a voi all'inizio come potete notare è già partito a compilare e ha già trovato altri errori il che va bene così ah ok è legato ai permessi di Linux perdonatevi c'è stato un piccolo retroscena molto simpatico perché di solito io lavoro su ambiente Windows l'ambiente Windows ha deciso di non funzionare e ho preparato in fretta e furia questo ambiente in ambiente Linux questo qua è sicuramente un problema di permessi della cartella che non curerò adesso perché non sono molto bravo in ambiente Linux che bello torniamo un attimo nella presentazione come stavo dicendo in base alla stampante e alla bordo integrata il film può essere caricato tramite USB tramite OSD oppure tramite programmatore il caricamento tramite USB si collega alla stampante al PC si utilizza il comando upload presente su platform.io e si attende il completamento appare una barra di caricamento appaiono i tool specifici per esempio se uno utilizza una board basata su Atme gli appare Atme Avr se uno utilizza magari una board basata su STM gli appare il reattivo applicativo sempre in seriale quindi in serialine a terminale quel terminalino sotto quindi vi basta seguirlo come prima ci dirà sia perché funziona sia perché non funziona e da lì si può agire a correggere tramite un programmatore in Arduino come detto prima la vicenda si complica bisogna seguire minuziosamente i manuali della propria board effettuare dei collegamenti tramite seriale oppure in alcuni casi direttamente al chip di memoria si flasha molto spesso però il lato positivo è che si può caricare un bootloader cosa significa che questa procedura complicata la faremo una volta sola dopo riusciremo a passare al caricamento o tramite cavo USB oppure tramite micro SD cos'è il caricamento tramite micro SD il file compilato viene ridotto in un file si mette in questa micro SD si inserisce a volte all'avvio a volte premendo un tasto specifico presente sulla board il firmware viene caricato e si avanza e questo è tutto alla fine perdonatemi il talk un po' arrabattato ma c'è stato un cambio di macchina non previsto eccomi qua siamo intesa di eventuali domande però tu Conte ne faccio una io non è da tanto che ti stai occupando di stampa 3D poi alla fine hai fatto questi progressi in maniera molto veloci diciamo che vivere in un comune molto piccolo durante un periodo di lockdown ti limita molto quello che puoi fare quindi un uomo una stampante 3D un po' di cose da fare che magari si trovano oltre i famigerati confini delle varie zone rosse e tutto e quindi uno se le fa si mette là e se le fa poi parte magari con stampanti non eccellenti la mia prima stampante era una i3 pro W dove quella W stava per Wuden quindi di legno e quella è stata praticamente una palestra eccezionale perché non funzionava mai quindi dovevi stare sempre lì a correggere passo alla volta e magicamente ogni tanto qualcosa esce per fortuna niente fiamme beh sì questo minimo si spera sempre va bene allora domande fatemi un segno ce ne sono non ce ne sono una no no allora non ci sono domande io ti ringrazio molto caro Matteo per aver condiviso con noi la tua esperienza la tua conoscenza questa sera grazie e alla prossima